Negli 11 giorni lavorativi del mese di gennaio abbiamo avuto 4799 accessi su 10.000 pazienti, quindi praticamente noi abbiamo visitato, visto, sentito e quant'altro quasi la metà di tutti i nostri pazienti. Se non è un assalto, poco ci manca i numeri che il dottor Crisarà, medico di medicina generale e presidente dell'Ordine dei Medici di Padova, si riferiscono solo allo studio associato in cui lui lavora. Si tratta di più di 75 assistiti seguiti al giorno per ogni medico, una media che racconta un lavoro incessante. C'è grande disorientamento, moltissimo lavoro è quello di riorientare le persone perché queste novità che soprattutto sui green pass, sui sistemi informatici che non funzionano, sulle prenotazioni dei tamponi a fine quarantena o a fine isolamento, ci sono notizie che girano incontrollate l'une in contraddizione con le altre e quindi i pazienti sono disorientati, oltre al fatto di essere spaventati. I medici di base eseguono anche tamponi solo in situazioni eccezionali però, se durante una visita si riscontrano sintomi del Covid ad esempio. Le strutture però, il più delle volte, non sono adeguate. D'altra parte, la modalità di lavoro dei medici di famiglia non consente di mettere insieme persone positive o sospetti positivi con persone che non hanno nessun sintomo e non hanno sintomi riconducibili al Covid. Bisogna ricordare che questi luoghi sono degli ambulatori medici, non degli esercizi commerciali e quindi se dovessero fare gli screening dovrebbero essere ristrutturati in termini di percorsi puliti e percorsi sporchi.